decisamente invernale con freddo, piogge e anche nevicate. Ma che tempo farà nella prossima settimana dal 14 al 18 di dicembre? Bene, prevarrà l'africano, arriva di nuovo l'anticiclone nord africano ma per pochi giorni perché già venerdì verrà sloggiato da una perturbazione atlattica. Quindi tra lunedì e giovedì africano solitaria, sereno su tutta la penisola, quindi forte raffreddamento noturno e quindi forti gelate soprattutto sul nord Italia tra lunedì e mercoledì quando si potranno raggiungere anche i 4-5 gradi sotto zero. Ma già nella giornata di mercoledì arrivano le nuvole e poi a fine giorno le piogge portate da una perturbazione atlantica sulle regioni di nord ovest e sulla regione del medio alto terreno. Probabilmente nella giornata di sabato le piogge si estenderanno a gran parte dell'Italia. Ovviamente ci saranno anche debole nevicate alla fine di venerdì sulle Alpi centro occidentale oltre 500-700 metri e dicevo attenzione al freddo di notte al primo mattino tra lunedì e mercoledì. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.